Esigo che questo episodio della storia sia cambiato, se ci riuscirete nell'ultima pagina del mio libro. Scriverai che io sono la più bella della storia. E io un genio della scienza. E io un eroe forte e potente. Un team di pericolosi criminali deciso a cambiare il corso della storia. Giovani eroi misteriosi pronti a salvaguardare il consueto scorrere degli eventi. I Predatori del Tempo. Dal 7 settembre alle 21.50, solo su Manga. Grazie.